benvenuti amici di 3d skill up avete mai desiderato creare una scena in 3d con una bandiera che sventola maestosamente al vento oggi vi mostrerò come fare esattamente questo utilizzando blender in questo tutorial impareremo passo dopo passo come modellare una bandiera come applicare la simulazione di tessuto per darle quel realismo che tutti desideriamo e infine come utilizzare un effetto vento per farla sventolare in modo naturale se siete pronti a intraprendere questa avventura 3d con me allora cominciamo una volta aperto blender utilizziamo il tasto a per selezionare ogni oggetto nella scena eliminiamoli premendo x passiamo alla vista frontale attraverso il tasto 1 del tasterino numerico ora aggiungiamo un piano che fungerà da nostra bandiera utilizzando shift più a per posizionarlo correttamente ruotiamolo di 90 gradi sull'asse x con rx e digitiamo 90 posizioniamolo nel posto desiderato usando il tasto g diamo la nostra bandiera alla forma corretta per allungarla sull'asse x utilizziamo s seguito da x una volta soddisfatti delle dimensioni fissiamo le modifiche con ctrl più a e scegliamo applica rotazione scala entriamo ora in modalità di modifica edit mode con il tasto tab per permettere una simulazione fluida e realistica abbiamo bisogno di più geometria suddividiamo quindi il piano clicchiamo col tasto destro e selezioniamo subdivide nel menu che appare in basso a sinistra impostiamo number of cuts a 20 queste suddivisioni daranno alla bandiera la flessibilità necessaria per sventolare al vento una volta che la bandiera è selezionata in object mode passiamo alla scheda physics e attiviamo la simulazione del tessuto cliccando su clot ora se avviamo l'animazione dalla timeline di blender noteremo che la bandiera cade verso il basso a causa della gravità abbiamo bisogno di un punto dove la bandiera rimane fissata in modo che non sia influenzata dalla simulazione clot in quell'area per fare ciò andiamo in edit mode e utilizziamo il tasto b per la box selection selezionando così tutto questo bordo della bandiera una volta selezionato andiamo nella scheda object data properties nella sezione vertex group clicchiamo sul simbolo più per aggiungere un nuovo gruppo e poi su assign per assegnare i vertici selezionati a questo gruppo ritorniamo in object mode e torniamo alla scheda physics all'interno del pannello shape selezioniamo il vertex group appena creato nel campo pin group ora avviando nuovamente l'animazione vedremo che il bordo della bandiera rimane fermo mentre al resto viene applicata la simulazione clot con la forza di gravità proprio come desiderato posizioniamoci all'inizio della timeline sul frame 0 con la bandiera selezionata in object mode facciamo clic destro e selezioniamo shade smooth per ottenere una superficie più morbida ora aggiungiamo il modificatore subdivision surface per affinare la geometria della bandiera per renderla più realistica passando in edit mode utilizziamo la combinazione di tasti ctrl più r per aggiungere un loop cut in queste due posizioni specifiche dopodiché aggiungiamo modificatore solidify per conferire spessore al tessuto della bandiera assicuriamoci di posizionare il modificatore solidify sopra il modificatore subdivision surface nell'elenco dei modificatori per una corretta gerarchia di calcolo nella sezione thickness regoliamo lo spessore fino a raggiungere il risultato desiderato per il nostro tessuto avviando l'animazione potremmo osservare che alcune parti della bandiera si compenetrano tra loro per risolvere questo torniamo nella scheda physics espandiamo il menu collision e attiviamo l'opzione self collision con questa funzione eviteremo la compenetrazione dei tessuti e otterremo un effetto più realistico nella nostra animazione ora è il momento di dare vita alla nostra bandiera con un tocco di vento premiamo shift più a e nel menu force field selezioniamo wind utilizziamo il tasto g per posizionarlo strategicamente nella scena e per orientarlo correttamente ruotiamolo di 90 gradi sull'asse y con la combinazione di tasti r seguito da y e poi digitiamo 90 nella scheda physics incrementiamo la forza del vento a 1000 nell'opzione strength avviando l'animazione vedremo il nostro tessuto prendere vita grazie a una brezza convincente che fa ondeggiare la bandiera con naturalezza ora è il momento di dare colore alla nostra bandiera applicando una texture scegliete l'immagine di una bandiera che vi piace e scaricatela sul vostro computer per il tutorial ho selezionato la bandiera italiana il tricolore del mio paese passiamo alla scheda uv editing per procedere con l'unwrapping visto che non è necessario applicare i modificatori subdivision surface e solidify per questo scenario l'unwrapping risulterà molto semplice stiamo lavorando con un singolo piano con l'inserito di partenza entriamo in edit mode nella finestra a destra selezioniamo tutti i vertici con il tasto a e poi premiamo e scegliamo unwrap dal menu che compare spostiamoci nella finestra dell'uv editor a sinistra alleniamo l'isola uv all'immagine della bandiera ruotandola premiamo r poi y digitiamo 90 e confermiamo con il tasto enter passiamo poi alla scheda shading e creiamo un nuovo materiale nell'editor dei nodi usiamo shift più a per aggiungere un nodo image texture clicchiamo su open per caricare l'immagine della bandiera torniamo nella scheda layout impostiamo il viewport shading su material preview e avviamo l'animazione ammirerete ora la vostra bandiera che sventola per renderla ancora più realistica aumentiamo il valore di rognes nel noto principal bsdf ottenendo così un materiale più opaco e simile a tessuto vero e con questo abbiamo completato la nostra bandiera in blender con un risultato davvero eccezionale